Come avevo detto per il video della Lazio la lotta per la Champions League sta diventando sempre più bella e sta coinvolgendo sempre più squadre e comunque perché nessuno vuole mollare comunque la posizione e vuole mollare l'occasione di potersi qualificare per la Champions e un'altra squadra che vuole unirsi a questa lotta, che vuole tornare ad essere in quella posizione dopo 4 partite senza vincere torna invece ai tre punti oggi la Fiorentina che vince nettamente contro il Frosinone con un secco 5-1 e vuole dare anche magari un segnale dal punto di vista del gioco anche alle altre Bene a tutti ragazzi da Frantuf Andiamo a commentare la vittoria arrivata alle 12.30 da parte della Fiorentina che batte nettamente il Frosinone che continua ad avere enormi problemi per quanto riguarda soprattutto le partite in trasferta arriva un'altra sconfitta in trasferta per il Frosinone che se non mi sbaglio è proprio la peggior squadra in trasferta insieme al Cagliari dell'intera Serie A appena tre punti in tutto il campionato La Fiorentina che finalmente torna a vincere dopo 4 partite come ho detto senza vincere vince per la prima volta nel 2024, prima vittoria in questo nuovo anno per la Fiorentina che dà anche un bel segnale e fa vedere che effettivamente l'acquisto di Belotti non è stato casuale perché un giocatore così serviva assolutamente alla Fiorentina è vero il mercato non ha portato l'esterno che voleva tantissimo Vincenzo Italiano e che serviva come il pane alla Fiorentina ma in questo momento comunque porta un attaccante che riempie l'aria meglio sia di Beltran sia di Nzola che lotta, che spalleggia con gli avversari che dà fastidio comunque lì davanti perché è un giocatore comunque fastidioso soprattutto per i difensori perché è un giocatore che ti viene a pressare, che ti viene a dar fastidio e che appena arriva la palla in aria però è anche bravo a saperla sfruttare al meglio ed è quello che è successo oggi contro il Frosinone infatti Belotti più o meno alla prima palla toccata riesce anche a fare il gol se non mi sbaglio dell'1-0 proprio il primo gol della partita lo segna proprio il giocatore ex Roma nel frattempo sta giocando anche il Bologna che sta distruggendo assolutamente il Lecce perché stiamo già 3-0 al cinquantesimo quindi un'altra che si unisce comunque, un'altra squadra che c'è all'interno della lotta per la Champions League c'è anche sicuramente il Bologna perciò questa lotta sta diventando sempre più bella perché le squadre più o meno sono tutte lì e si stanno raggruppando forse ancora di più perché adesso in una ipotetica vittoria del Bologna che è in vantaggio 3-0 non me ne voglio nel tifosi di Bologna ma 3-0 contro il Lecce in casa in questo momento sono pari punti Bologna e Atalanta la Fiorentina che ha vinto alle 12.30 è a 37 con un punto in meno rispetto alla Roma e due punti in meno rispetto all'Atalanta però Bologna, Atalanta e Fiorentina hanno comunque la partita di recupero per quanto riguarda la ventunesima giornata e se non mi sbaglio c'è proprio Fiorentina-Bologna che potrebbe essere una partita decisiva perché anche la prossima se non mi sbaglio c'è proprio Lazio-Bologna ha un altro scontro per quanto riguarda la Champions perché la Lazio è pari punti alla Fiorentina e il Napoli deve ancora giocare stasera quindi proprio le squadre sono tutte lì e sarà sicuramente la lotta forse più emozionante rispetto a quella dello scudetto perché penso che l'Inter sia già andata e per quanto riguarda la lotta salvezza sì sono comunque tutte lì però fanno i punti veramente proprio arrilentissimo invece lì su comunque le vittorie comunque arrivano da parte di una da parte dell'altra una volta vince una, una volta vince quell'altra e comunque la lotta diventa sempre più bella ed interessante la partita della Fiorentina parlarne è un po' troppo facile per la vittoria della Fiorentina nel primo tempo ha chiuso praticamente G. Conti con un'ottima prestazione contro un Frosinone che non si è mai in realtà a parte all'inizio proprio con Martino Esquarta che ha cercato in qualche modo di complicare il cammino della propria squadra perché ha cercato in qualche modo di regalare un gol al Frosinone però non ci è riuscito grazie anche ad un ottimo Terracciano che è stato estremamente attento nei primi minuti su Caio Orge e ha subito col solamente su una deviazione proprio sul 5-0 però la Fiorentina nel frattempo, nel primo tempo, è riuscita a farne addirittura 3 e ovviamente 3-0 a fine del primo tempo la partita è bella che è finita segna anche Nico González importantissimo far tornare a gol l'argentino che nel primo tempo secondo me era stato magari l'elemento un po' più negativo della scuola viola ed è importante anche sia dal punto di vista morale perché il giocatore era stato criticato dopo la brutta prestazione contro il Lecce dove era abbastanza indietro di condizione l'errore poi dal dischetto contro l'Inter quindi era stato anche criticato Nico González importante anche dal punto di vista morale farlo tornare al gol una vittoria estremamente importante moralmente però per tutta la Fiorentina che vince, che torna a vincere e che in questo momento deve concentrarsi al 100% per riuscire in qualche modo a trovare la via della Champions perché adesso tra tre giorni la Fiorentina ha un recupero fondamentale in campionato contro il Bologna ci sarà Bologna e Fiorentina il giorno di San Valentino e deve assolutamente in qualche modo cercare di avvicinarsi ancora di più all'Atalanta fatemi sapere nei commenti quale di queste squadre considerate favorita per riuscire ad arrivare in Champions io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di lasciare like, di commentare, di condividere il video di andare in descrizione dove ci sarà la canale e TikTok dopo usciranno tutti i video per quanto riguarda gli assunti sulle partite di Serie A, notizie di calciomercato e tante altre notizie sullo sport noi ci vediamo con un prossimo video Bella